ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vedremo un piccolo aggiornamento della mia attrezzatura fotografica come possiamo ben vedere qui sul tavolo abbiamo la mia sony a7s e il 28 70 della sony f3 556 un'ottima ottica per full frame vediamo che è abbastanza ottima un'ottica kit diciamo per full frame abbiamo lo stabilizzatore che steady shot abbiamo una bella escursione zoom da 28 a 70 però come possiamo già notare abbiamo il barilotto che quando viene zoomato entra ed esce quindi come ben sapete tutti voi che siete videografi questo movimento può creare dei problemi sullo stabilizzatore poi abbiamo un'apertura variabile da f35 a f56 quindi questo comporta una modifica dell'esposizione non mi crea particolari problemi questo sulla mia 7s dato che non ha problemi di iso quindi non ha problemi di rumore alti iso però crea un problema comunque ogni volta che facciamo delle riprese se andiamo a zoomare abbiamo un'esposizione diversa quindi potremmo non trovare la stessa esposizione quindi ho deciso di fare un piccolo upgrade anche se non è una lente per full frame ma una lente per apsc ho voluto fare questo piccolo upgrade in vista anche di un cambiamento del corpo vorrei passare ad una psc però vendendo alcune ottiche e alcuni accessori che avevo ho optato per prendere questo sony 18 105 f4 della serie g master sempre della sony per apsc però ovviamente monta anche su full frame dovremmo effettuare la conversione in modalità apsc quindi avremo un crop del sensore perdendo un po di megapixel però sulle foto avremo un problema dato che la sony a7s ha già 12 megapixel in origine quindi andremo a finire a 5 megapixel quindi avremo delle foto di scarsa qualità però sul fattore video ciò che interessa a me non è un problema perché girando in 1080p abbiamo bisogno di circa 2 megapixel quindi la macchina ne eroga 5 quindi andrebbe quindi la macchina ne eroga 5 megapixel quindi va più che bene per girare i video in 1080p e niente non perdiamoci in chiacchiere andiamo a spacchettare questo obiettivo mettiamo un attimo la sony da parte all'interno della scatola troviamo subito un foglietto per estendere la garanzia di un anno se andiamo a registrare il nostro obiettivo sul sito della sony cosa che faremo vediamo il suo interno troviamo dei vari libretti di istruzione in varie lingue poi troviamo al suo interno il paraluce originale sony di una plastica abbastanza rigida e qui troviamo l'obiettivo coperto da questa bellissima pellicola di protezione ed eccolo qui obiettivo in metallo quindi abbastanza rigido non molto pesante perché pesa circa 203 grammi 230 grammi scusate come dicevo prima è un 18 105 quindi abbiamo una bellissima escursione un'apertura fissa di f4 quindi su tutto il range abbiamo un f4 come dicevo prima non abbiamo problemi di esposizione quindi se impostiamo l'esposizione corretta l'avremo su tutta la focale qui c'è la rotella del zoom qui c'è la rotella dello zoom e qui abbiamo la ghiera della messa a fuoco in più questo obiettivo a questa funzione power zoom che ci permette di zoomare o tornare indietro con questa semplice levetta perché questo obiettivo ha lo zoom elettronico l'unica pecca di questo zoom è che se noi impostiamo una distanza tipo mettiamo 18 mm oppure 50 mm se spegniamo la macchina ritornerà a 18 mm in automatico quindi dobbiamo rizzoomare a 50 mm in poche parole non tiene lo zoom impostato un'altra particolarità e lo zoom interno quindi non avremo il barilotto che fuoriesce ottima per lo stabilizzatore a un diametro di 72 mm per i filtri che ho acquistato anch'essi però vedremo in un altro video e niente come dicevo prima anche se dovessi perdere un po di qualità per il sensore per il fattore di crop non è un problema perché girando in 1080p non si dovrebbe perdere una grandissima qualità poi in vista di un passaggio ad ap sc ho preferito prendere questa lente vendendo tutto ciò che avevo in più ho preferito prendere un unico kit che mi coprisse da 18 a 105 che in questo caso su full frame o comunque su ap sc è equivalente dei full frame di un 20 27 137 quindi avremo un 28 135 che in questo caso avevo già un 28 70 siamo più o meno lì le focali che mi servono anzi avrei un po di zoom in più rispetto al 28 70 niente questo video è tutto spero che vi sia piaciuto ci vediamo nel prossimo video in cui andremo a testarlo sul campo un po